Una breve visita a Trento per Luca Vettori, prima di partire per un po' di meritate vacanze sei venuto a conoscere meglio la realtà in cui giocherai dalla prossima stagione, ben arrivato. Grazie, è davvero un piacere oggi essere qua e sì appunto do un'occhiata diciamo alle motivazioni domestiche e sono contento di essere qua in sede, di conoscere la società e appunto sarò a breve un pochino con i giorni liberi in vacanza prima di ripartire e sarà una bella strada. Ecco, Trento, il Palatrento lo conoscivi già bene, avresti giocato tante volte, una sensazione diversa sicuramente dovrà essere dall'altra parte della barricata, diciamo così. Decisamente sì, infatti da avversario è sempre stata un'emozione gigante arrivare a giocare lì contro comunque dei campioni e essere dall'altra parte in questo momento farà sicuramente a settembre venire di nuovi brividi, saranno brividi sicuramente diversi ma sarà un'emozione. Ritrovi Angelo Lorenzetti ma anche Simone Giannelli e Filippo Lanza con cui inevitabilmente nelle ultime settimane avrai parlato tanto di questa nuova avventura in maglia giallo-blu. Sì, ci stiamo lentamente pregustando comunque questo avvicinarci ecco alla stagione futura sia con Angelo che con Pippo e Simone e appunto tutti ci conosciamo già ma c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sarà proprio questo il bello secondo me, il fatto di cercare di ritrovare sempre nuovi spunti anche nei confronti dell'amicizia, nei confronti della professione e uno stimolo sempre nuovo al lavoro. L'esperienza recente in World League ti ha dato qualcosa di più dal punto di vista dell'intesa proprio con Simone? Inevitabilmente i tifosi trentini hanno guardato soprattutto in posto 1 e in posto 2 in questo periodo. Guarda, sì, è stato un po' il talenante ma anche per comunque le partite non sono state di grandissima intensità purtroppo e più per deficit di squadra credo, c'è sicuramente del lavoro da fare e dal punto di vista dell'intesa secondo me ci siamo trovati anche noi comunque un po' ad alti e bassi ma c'è comunque grande serenità, grande fiducia e c'è un anno davanti quindi insomma siamo contenti. L'occasione buona per salutare i tifosi per la prima volta da giocatori di Trentino World. Ragazzi vi saluto, sono molto molto onorato e niente, speriamo di vederci prestissimo e a presto.